ehi la ciurma io sono mazze test e ben ritrovati qui su alien breed impact sono sempre il vostro carissimo e bellissimo mazze test e qui ho dovuto rifare un attimo questo questo livello perché mi era impazzito ecca la lo sapevo mi era impazzito il controller a un certo punto gli erano partite delle macro tipo a caso e quindi non riuscivo più a sparare e sono morto e quindi ho detto beh facciamo prima che ricominciare da qua perché ok mo mi conviene ah no non posso porca pupazza vattene vattene porca c'è la miseria c'è c'è ancora qualcuno no per fortuna no ma sì 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 che ce n'è ok due kit p ma porca miseria il giro prima mi era andata molto meglio e invece ora qua va tutto male naturalmente quando il video che ho cancellato era tutto più positivo nel video che ho cancellato qua qua era iniziatto impazzito da morire e tra un po' come potrete vedere ci saranno dei nemici e boh c'è tipo addio è marlow uh perfetto allora c'è marlow che è ancora vivo noi mettiamoci qua e cerchiamo di mantenere la posizione perché qua ecco infatti posto posto ok mi sono vendicato dei tre che prima mi hanno seccato perfetto perfetto raggi tra l'altro ho cercato di configurare un attimo meglio il microfono perché appunto col microfono nuovo è un pochettino complesso perché è molto 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 sensibile e quindi si avvertono anche la pressione si avvertono solo la pressione dei tasti sul controller ma anche sulla tastiera perché è una tastiera meccanica e ogni tanto si sentivano anche i click del mouse quindi ho cercato di regolare la sensibilità adesso poi si vedrà vedrò un attimo questo video come è venuto ma comunque scrivetemelo nei commenti se per caso ci fosse qualcosa che non vi quadra insomma ritenete che l'audio si è venuto particolarmente cattivo chi c'è qua c'eri solo tu? perfetto meglio così meglio così allora noi dobbiamo passare di qua la c'è un Intex ma ci eravamo già passati una volta di qua dobbiamo andare di là? di qua e no questo qua è quello che carica si mette a urlare come un pazzo e poi fa si lancia tipo kamikaze ma devo passare di qua? non lo so sì 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 di qua di qua di qua me lo send no mi direi che sono dietro no sono davanti ah tutto per ora l'hai bloccato ah sono là dentro porca miseria attivare il settore difesa B qua non passano vero? no qua no qual è il questo qua non entrano vero? no console di difesa come accesso negato porca pupazza qua mi negano sempre gli accessi dappertutto dove? dove? no sono là sopra per fortuna dove cavolo devo andare allora? qua? vediamo qua ok questo l'ha attivato oh oh per fortuna se ne occupano loro noi siamo tanto tranquilli così risparmiamo proiettili evviva evviva oddio si è aperta anche la porta però e questo non mi piace per nulla morti tutti? meglio e qua ci sono Marlow e gli altri belli sono arrivato sono qui per voi sono ancora vivi tra l'altro freslewen ma io allora odio il fatto che continuino a cambiarmi chill up allora l'abbiamo salvati ma ci manca ancora freslewen ha freizzato per un attimo freslewen dov'è che mi hai detto che è? da quella zona là freslewen se non mi ricordo male è quello che ci creerà un brutto disguido nel senso che c'è una zona mi pare di ricordare dalla prima volta che l'ho giocato in cui c'è un bel bimbo che ci farà una bella fregatura nel senso che ci sarà un enormissimo alieno da cui dovremmo scappare come dei pazzi ma proprio scappare come se non ci fosse un domani io giro sempre dalla parte sbagliata oddio ah no è vero questa qua è quella contro il tempo dobbiamo cercare di disattivare i cosi il controllo di ventilazione ma dov'è che devo andare? no di qua lasciatemi passare devo andare dove? ah di qua tizietto qua ti faccio un bello scherzetto adesso ok perfetto dove dobbiamo andare? eh porca c'è la miseria se non arrivano loro io voglio salvare eh bestia no c'è il tizio quello che spara qua mi secca no prima i ranged prima i ranged quello là è quello elettrico eh morto ma kit medico grande mi servono un sacco dove bisogna andare? ah qua pupazza tre minuti e mezzo ce la facciamo? ce la facciamo? eh non funziona mai niente quando quando c'è bisogno di farlo funzionare eccala eccala non fermarmi eh vabbè naturalmente arrivano ma oh vuoi morire? porca miseria allora uno là uno là e poi dovremo fare quello del centro forse ok uno è attivato lo sapevo la simmetria è molto apprezzata ma avrei apprezzato qualche nemico in meno ma come evacuate visarea immediately io sto cercando di salvare delle vite umane signorina signorina no non devo andare là dove cavolo devo andare? là ok in fondo non devo attivare quindi quello centrale a meno che non mi dia errore e mi fa rifare tutto oggi eh vabbè 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 eh ho capito che doveva evacuare ma vaffanbrodo tizio che urla forse mi conveniva usare il conferma la console centrale com'è la console centrale? ah ok ne arrivano altri? no ce l'abbiamo fatta eh? eeeh il sistema inibitore dei gas allogenati dov'è sto sistema inibitore dei gas allogenati? porca miseria torniamo di qua veloce ce la si fa? ce la si fa? no ok forse sono salvi alleluia accedere al console di comunicazione per parlare al medico voglio vedere se c'è qualcosa di interesting eh una granata stradente ora che non abbiamo più la fretta addosso oddio non è mancava qui tanto è per un minuto tipo ce l'abbiamo fatta esplosivi cosa ce ne facciamo per esplosivi? ah dobbiamo trovare l'uscita ma com'è uscita? non possiamo passare da dove siamo arrivati? eeeh dove devo andare? no di qua è chiuso c'è un vetro tipo forse da ecca là per cosa per la visuale sfappata quando eeeh beh no così va bene eeeh dove devo passare? c'è un vetro qua c'è un vetro ma l'hai bloccato non esplode mica ebbe muori sto finendo anche i proietti lì tra l'altro forse devo fare il giro di qua cosa c'è qua? ci deve essere un modo per entrare ehi fatti controllo tutte le porte e le finestre ma adesso mi prendo un po' di uh c'è un terminale intex si e delle munizioni no da dove si entra quel terminale intex? ah si entrava da laggiù vabbè vediamo se c'è qualcos'altro qua forse di qua dobbiamo passarci dopo c'è ancora un sacco di roba qua ok se c'è qua niente eccala no ma dobbiamo passare di là non ci conviene passare già di qua se c'è tutta questa zona vuol dire che dovremmo passarci qui nel secondo momento andiamo al terminale intex e poi ci pensiamo dopo con la zona anche perchè abbiamo bisogno di salvare cioè sono praticamente 15 minuti che non salviamo ecco qua dei riconoscimenti che fanno sempre bene che poi non so perchè li chiamo i notari riconoscimenti ma va bene allora armi vediamo un attimo che cosa abbiamo delle munizioni ma ce n'è solo 200 vabbè le prendiamo ho del cannone posso venderne anche un po' uh abbiamo un lancia fiamme adesso gg non è male il lancia fiamme così così prendere delle munizioni del lancia fiamme se ah però venderne mi dà solo 40 non ci arrivo comunque ai 6.000 che vorrei nel munito che vorrei c'è un divano e no 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 non c'è nel senso niente vabbè allora granata frammentazione una torretta no per quanto però 60 punti quasi quasi vendo allora quello però non mi bastano ancora devo rivendere li ho comprati appena 100 e vabbè potenziamenti armi fucile d'assalto andiamo con aumento danni ok e non abbiamo più neanche un centesimo avessimo avuto bisogno di medikit no vabbè 2 e 5 5 grandi dai si 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 no ma io volevo anche salvare in realtà signor terminare in tex e mi faccia salvare buon uomo salvo i progressi su 31.5 alle 12.11 vai su questo ok andiamo andiamo e rompiamo qua c'è un vetro di qua forse no proviamo a accedere di qua si può accedere forse c'è un vetro da sto lato uh di riconoscimenti e qualche allienuncolo e ora fa ancora un rumore diverso uh c'è c'è un ingresso di qua dove vai ok una registrazione ah guarda possiamo rompere questa prendere una grata assurdente e far saltare quella e arrivare là dove dovremmo arrivare noi cioè dove è andato solo lui c'era bah gg meglio così ah ecco solo per quelle cariche esplosive del kaise c'è qua tutto l'esplosivo che c'è qua in giro eeeh na misè sta attento che ti faccio la festa c'era un'altra c'era un altro là fuori ma adesso mi entra di qua eeeh buon uomo mi lascia in pace eeeh che cos'è prima la di carry focussiamo la di carry non i tank morti tutti ok così quasi cambierei con un medikit grande e mi faccio un medikit grande perfetto una granata frammentazione così quasi torno un attimo al terminale index per prendermi dei medikit vendendo la granata frammentazione ah no ma non ci faccio niente quanti soldi ho lo fa vedere qua eeeh inventario mmm mmm ma ciurma io mi sono appena accorto che siamo arrivati già a praticamente a quasi 20 minuti quindi torniamo velocemente al nostro terminale in tornerei al nostro terminale in tex se mi lasciano tornare al terminale in tex mi lasciate andare al terminale in tex a salvare come tutte le persone che si rispettino cos'era quel rumore lasciatemi solo andare al terminale in tex e facciamo un po' un salvataggio salva progressi GG quindi per questo episodio è tutto noi ci vediamo prossimamente vi invito a lasciare un mi piace se per caso il video vi fosse piaciuto iscrivervi ciao a tutti ciao